Dunque mi raccontavo un sacco di cose su Disney, avevano fatto un cartone di mani insieme, un cartone animato che si chiamava Destino, che durava 6 minuti, e dunque mi raccontavo un po' di tutte queste tecniche di cartone di mani, e mi sono sempre stata affascinata da Disney. A me il personaggio che mi piaceva di più era la regina cattiva di Bianca Nera, perché Bianca Nera mi piaceva perché faceva l'aspirapolvere paninale, mentre... Mentre la regina era sempre vestita bene, infatti avete notato che i cattivi del cartone di mani sono sempre quelli che sono vestiti meglio, Cruela de Vil, Malefica, eccetera, c'hanno le unghie, tutto, eccetera. Cosa ci vuole dire Disney con questo? Mi piaceva la regina cattiva, ho sempre voluto fare un personaggio così un po' cattivo, non la carina, romantica, ma un personaggio... Edna è un po' così.